Sì, era importante oggi vincere, era importante la prestazione, era importante vincere, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo dato tutto e ora testa domani, poi testa sabato e magari domenica. Noi vogliamo salire e ce la metteremo tutta. È stata una partita non semplice comunque, perché Romagna è una squadra che nonostante sia stata per l'art di tratti sotto, si è tenuta sempre in partita. Certo, va fatto un applauso grandissimo a Romagna, al mister, sono un mix di giovani ed esperti, sono grandi giocatori e infatti sono arrivati i secondi nel girone qui. Complimenti a loro, sicuramente si riparanno la prossima partita. Diciamo che l'inesperienza la paghiamo, soprattutto in questa occasione, abbiamo tanti ragazzi che si affacciano la prima volta alle finali per andare da 1 per cui sicuramente l'esperienza è determinante, più non è una scusa ma chiaramente avere infortunati 4-5 giocatori che sono parte integrante, se non titolari della rotazione, ci ha un po' penalizzato, però noi siamo venuti per fare il massimo a imparare, a portare a casa. Non ci diamo per vinti, proviamo venerdì a ribaltare il risultato.